Io penso che il Parlamento sia la sede della democrazia e in questi particolari momenti ci sia necessità che il Parlamento rimanga aperto e i rappresentanti istituzionali facciano vedere la loro attività ai cittadini. Stamattina, come Italia Viva, abbiamo presentato una proposta di legge alla Camera che prevede l'introduzione del concetto di emergenza nazionale in Costituzione, proprio affinché la maggioranza dei due terzi dei presenti in Parlamento possa votare una commissione che abbia funzione legislativa in questi momenti di crisi e di emergenza appunto nazionale.